Ciao a tutti, programmi per il prossimo weekend? Io sì, venerdì, sabato, domenica, 25, 26, 27 settembre, Pordenone, per ragionare di lavoro, di immigrazione, di tasse e soprattutto di futuro. Io sarò alla festa della Lega Nord Friuli, sabato, 26 settembre, vi aspetto in tanti per mangiare bene, spendere poco e soprattutto parlare di politica e costruirla dal basso. Chi non viene è una serroacchiale.